Io, Anicetto e Gianni Bacca, credo veramente e professo tutte le simbolo e le verità contenute nel simbolo della fede, cioè credo che non solo Dio, Padre unicomente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose invisibili e invisibili, credo che non solo Dio, Padre unicomente, figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce dalla luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato dalla stessa sostanza del Padre, per il mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra smartenza, scelta del sacerdo, e per l'opera del Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto un uomo, e per il mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per la nostra smartenza, scelta del sacerdo, e per la nostra smartenza, scelta del sacerdo, e per la nostra smartenza, scelta del sacerdo, Dio vero, Nismo santo, che cresce, che cresce, che cresce dal padre e dal figlio, e a Developeri e del figlio, e a Suddenly dipirà, e che ha parlato nel mezzo di you te, Credo la Chiesa, una santa, catolica e solita, professo un solo autismo, e credo non liberare, aspeto la gestione dei morti, e la vita del mondo creverà. Amén. Inoltre, credo, conferma fede, tutto ciò che è contenuto della parola di Dio, scritta o trasmessa, e che dalla Chiesa è proposto da credere come divinamente liberato, sia con solenne decisioni, sia con un magistero ordinario e universale. Accorgo e professo fermamente anche tutte le singole verità circa la dottrina sulla fede, e sui costumi che vengono proposti dalla Chiesa in maniera definitiva. Aderisco in orte con il religioso secco della volontà e dell'intelletto agli insegnamenti che sia il Romano Contefici, sia il Collegio dei Vestori, e non si trasmettano quando riescono a prendere come divinamente liberato, anche se non intendono proclamare con un altro definitivo. Così prometto, così mi impegno, così giusto. Così mi aiuti Dio e questi santi Vangeli che tolgo con le mie mani.